La fecondazione eterologa costerà tra i 400 e i 600 euro, l'ha stabilito la conferenza delle regioni che ha definito una tariffa unica, fa eccezione alla Lombardia dove invece sarà a pagamento. La conferenza ha ipotizzato che l'eterologa possa rientrare nei livelli essenziali di assistenza, le differenze dipenderebbero dai ticket fissati dalle singole regioni. Per quanto riguarda invece gli ipotetici tagli alla sanità, è stato avviato un confronto informale con il governo, ma al momento, ha precisato il presidente Chiamparino, non sono previsti i tagli al fondo sanitario, almeno per il 2014. La trattativa quindi riguarda gli anni futuri. C'è una rimodulazione a fronte di una riorganizzazione economico-finanziaria che il governo sta mettendo in campo, parliamo di 20 miliardi, inevitabilmente le regioni non possono non essere coinvolte in questo taglio e il comparto della sanità per una quota minima sul 2015 potrebbe subire sostanzialmente una riduzione. In conferenza Stato-Regione invece è stato acquisito il parere favorevole sul decreto relativo alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione dell'axilella fastidiosa nel territorio nazionale. Il decreto fornirà un importante strumento per la gestione dell'emergenza fitosanitaria che colpisce in particolare il Salento. Il decreto infatti nello specifico definisce le misure fitosanitarie necessarie per prevenire l'introduzione e la diffusione del patogeno sul territorio nazionale, identifiche inoltre azioni mirate per la provincia di Lecce.